a questo giro andiamo al spettacolo primi si imballano si imballa vai si imballa e vai si carina e belle con le mani su vai bambaline è uno spettacolo ragazzi bambaline bye bye ragazzi ci passano qui lo facciamo al finale ragazzi le mani dove sono? siediti siediti sigarina adesso se non ho aspettato lo prenditi all'arrivo perfetto migliorina bella può bastare e ci siamo da questa parte l'uscita